Lo sciopero di 24 ore dei lavoratori ANM a Napoli sta provocando forti disagi e ripercussioni sul traffico che in alcune zone della città è andato letteralmente in tilt. Chi è giunto a Napoli con il servizio pubblico extraurbano che viene effettuato regolarmente è stato costretto a raggiungere la destinazione a piedi a causa del blocco dei mezzi pubblici. Ferma la linea 1 della metropolitana, le furicolari cittadine, le scale mobili, i servizi intermodali e il trasporto di superficie. La protesta, secondo fonti sindacali, sta registrando un'altissima adesione. In mattinata una manifestazione è andata in scena a Piazza Municipio davanti la sede del Comune di Napoli per chiedere garanzie occupazionali e il rilancio del settore che deve rimanere rigorosamente pubblico. I sindacati si scagliano contro l'ANM e l'amministrazione comunale per il piano di risanamento definito fallimentare. Se non abbiamo la garanzia della proprietà che c'è un'azienda sostenibile che vuole veramente andare verso il futuro del trasporto pubblico locale, avremo sicuramente una situazione di default. Una situazione di default che porterà probabilmente all'ingresso di privati, all'ingresso di questi privati che non garantiranno né il servizio alla cittadinanza né la garanzia di questi 194 che proprio oggi sono in bilico. Ma ribadisco, fondamentalmente è inutile parlare di riqualificazione, di riorganizzazione se non abbiamo la sostenibilità dell'azienda. Si salva con un piano industriale credibile, un piano industriale che sia sopportato da economie vere e certe da parte dell'amministrazione comunale. Altre ricette non le conosciamo e certamente noi siamo qua in piazza oggi a scioperare proprio perché tra l'amministrazione comunale un futuro certo per questa azienda e per i suoi dipendenti.